Allora, brevemente desidero ancora una volta confutare questo discorso della reincarnazione perché è un discorso evidentemente falso, è un discorso che ci viene proposto da coloro i quali con ogni evidenza vogliono restare qui e prendono a spunto quel versetto che dice che Giovanni Battista sarebbe Elia, quel versetto che pare, che sembra che dica che Giovanni Battista sia la reincarnazione di Elia, ma in realtà non è così, egli venne con lo spirito di Elia, ma non siamo noi a dire questo, bensì è la stessa parola che ci dice che Giovanni Battista non è Elia, lo stesso Giovanni, se noi andiamo in Giovanni 1, in Giovanni 1, al capitolo 1, al versetto 21, essi gli domandarono chi sei adunque? Sei tu Elia? Ed egli disse io non lo sono. Quindi Giovanni stesso nega di essere alla reincarnazione del profeta Elia, che si è venuto con lo spirito di Elia è un altro discorso. Ora lo spirito di Elia si può interpretare, si può capire come con la forza di Elia, la determinazione di Elia, il carisma di Elia, insomma tutte cose che vengono da Dio. Giovanni Battista non fece alcun miracolo, profeta Elia ne fece tanti, ne fece di sorprendenti. E un'altra cosa voglio dire, siccome questi persone, questi apostoli, anche loro sono dei, come dire, dei vecazionisti, veganisti, vegetarianisti e dirsi voglia. Giovanni Battista andava vestito di peli di cammello, quindi ammazzava il cammello e se ne vestiva e mangiava locuste e miere selvatico, cioè per dire che non possono prendere, Giovanni Battista non solo possono prendere come bandiera per il vegetarianismo, ok? Non che sia... ognuno poi può mangiare o astenersi da mangiare quello che vuole, però il regno di Dio non consiste né in vivanda e né in bevanda, dirà Paolo più tardi. Quindi vedete che Giovanni Battista stesso dice io non sono la reincarnazione di Elia.